Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, oggi mi vedete struccata perché come avrete detto dal titolo oggi ci andremo a preparare un make up per le feste, siete un po' stortini aspettate, ok? Spero venga bene anche perché io non mi vedo di là, ho preso il mio specchio però non so farlo nel mio meglio, vediamo cosa ne esce fuori, sarà tutto molto semplice anche perché se mi seguite da un po' saprete che mi trucco proprio a livello base, quindi niente di che, direi di iniziare subito l'oggetto di Ramo Natalizzi di oggi, l'accessorio è questa felpa con topolino vestito di Natale, tutte queste felpe in realtà sono di mia sorella poi vi farò un video dedicato a tutti gli outfit natalizi che potete fare, quanto sono carina, se prendendo il contorno occhi, io uso questo della Sien, molte cose sono le stesse che avete detto da un bel po', le altre cose che sono cambiate sono il mascara e il pennello per il fondotinta perché mi si è rotto e forse basta, non lo so, mi sembra basta, poi per il resto tutto nella norma, comunque adesso applico il primer di Essence, questo ha la formula idratante, mi guardo qui perché se no magari non mi accorgo di non averlo messo bene, in un altro video vi farò vedere un quadernino che ho comprato di Natale da Tiger, praticamente è un bullet journal fatto solo per il periodo natalizio, intanto vado ad applicare il correttore di Astra, questo è il numero 04 con la W, non so cosa cambi, comunque, e stavo dicendo, appunto dura soltanto per il periodo natalizio e io sono indecisa se portarlo o su TikTok perché comunque sarebbe un video molto breve e quindi se portarlo giornalmente oppure farlo per i fatti miei e poi farvi vedere il risultato, sinceramente sono indecisa perché, ma qui non avevo sparmato bene il primer ma ok, perché comunque mi piacerebbe commentarlo perché ad esempio, quante volte sto dicendo perché posso scrivere quali regali ho fatto, quanto costano, intanto vi faccio vedere il pennello nuovo, è bellissimo, tutto glitterato, dicevo, quindi mi piacerebbe commentarlo con voi mentre lo faccio, però su TikTok non è possibile perché ancora su TikTok non ho parlato, non mi sono fatta vedere e penso che continuerò così per un bel po', perché l'algoritmo di TikTok è molto più veloce, quindi vorrei evitare di capitare da qualcuno che non vuole, se faccio tanti tagli è perché c'è il cane che avvaia, perché sta giocando con la palla e quindi niente, mi sono persa in chiacchiere, non ricordo più cosa stavo dicendo. Prima di andare ad applicare il correttore metto questo balsamo labbra alla pesca di credo Astra, non lo so, prima c'era la carta ma l'ho tolta, quindi non lo so, probabilmente Astra, perché come notate io uso praticamente solo prodotti Astra o Essence perché mi trovo veramente bene, però adesso applico il fondotinta sempre di Astra, il numero 02G e in realtà questo fondotinta, come ho detto in molti video, può essere usato anche correttore e lo usavo come correttore fino a qualche mese fa, però da quando ho comprato il correttore di poco fa lo utilizzo come fondotinta e sinceramente lo preferisco, il risultato è molto più coprente ovviamente, ovviamente, e mi dura anche di più, e lo sfumo con lo stesso pennello del correttore, e devo dire che da quando ho cambiato pennello, innanzitutto non so se questo pennello vada bene per il fondotinta, però io mi trovo bene, e da quando ho cambiato pennello il risultato è molto molto più naturale, anche coprente, però è proprio sottile, mi piace un sacco oggi per la prima volta metterò con voi degli ombretti, ma sappiatelo, io non metto mai gli ombretti, se non proprio per qualche occasione, quindi non sarà niente di che, non avrò sfumature chiari, scuri, cose del genere, metto due ombretti e fine della discussione, in tutto questo più tardi devo uscire perché devo andare a portare il cane a lavare che ho avuto una brillante idea di rotolarsi nel fango, applico il blush, e questa è una parentesi molto dolorosa per quanto riguarda i miei trucchi, perché sapete tutto il casino che c'è stato, e quindi adesso uso questo, che è sempre quello precedente, è soltanto tutto rotto e messo da un'altra parte, devo assumarlo prima sulla mano perché essendo rotto non si applica in maniera uniforme il pennello, comunque ultimamente da quando metto un sacco di correttore e fondotinta anche sul mento, perché un sacco di puntine applico il blush anche lì, non in maniera troppo evidente, giusto per non risultare troppo piatto, questo applico la cipria di L'Oreal, e questa ormai sta quasi minendo, però mi trovo troppo bene, e come ho già detto in un precedente video, mi trovo meglio con queste cipre piuttosto che con quelle libere, mi sembra che secchi di meno la pelle, ma può essere solo la mia impressione, non me ne intendo ovviamente, fatto questo, pettino le sopracciglia prima con un pettire, normale, io ho sempre amato le mie sopracciglia nonostante siano storte, nonostante qui abbia dei buchi e siano completamente diverse, a me piacciono così, non cambierei mai la forma, infatti quando le faccio, faccio solo il centro, ma è veramente raro perché non ne ho, poi vado ad applicare questo maschera colorato di, non so come si legga, Ivy Roche, non lo so, è un brand francese, vabbè lo sapete presumo, comunque questo è, diamo se c'è scritta la tua realità, 0-1, ok, e scarico bene il pennello prima perché non voglio un effetto troppo pesante, questo in realtà non era neanche mio, me l'hanno regalato perché era troppo scuro per quella persona e quindi lo utilizzo, ma non l'avrei mai comprato, ecco, per quanto mi occupo delle mie sopracciglia, ok, mi piace fare questa parte un po' alzata e poi la porto indietro così, probabilmente non è cambiato niente però faccio pure, adesso ci divertiamo, ho due palettes qui, questa qui è di Astra con dei colori molto molto nude e probabilmente andremo ad utilizzare qualche marroncino chiaro da questo lato e poi ho questa palette bellissima di shimmer, ora la apro sperando che riuscite a vedere qualcosa ogni voltanzo come aprirla, ok, è stupenda e andremo ad utilizzare l'oro probabilmente, questa palette ha dei colori davvero particolari perché ad esempio c'è un nero che è sfumato a delle sfumature verdi e gialle, tipo un po' petrolio e comunque è proprio dei bei colori, allora iniziamo, non mi prometto niente, anche perché non mi ero preparata un trucco prima di iniziare a registrare, quindi sarà tutto sul momento, allora gli applicherei questo marroncino qui, non so se lo sto inquadrando bene comunque, e su tutta la palpebra, giusto per sembrare meno cadaveriche del solito, probabilmente neanche si vedrà con la luce blu dietro, ok, ci può stare dai ok, poi potrei scurire l'angolo esterno con il marroncino più scuro, ora ve lo faccio vedere, questo qui, red, spero si sia visto, e lo applico qui, avevano suonata la porta stavo dicendo, applico questo più scuro alla fine dell'occhio formando una specie di eyeliner questa è una luce naturale molto carina, spero si vede anche dal video, non lo so, ok, non lo toccherai più, ho fatto questo sul pennello e prendo la seconda palette, dopo due ore ce l'ho fatta ad aprirla, e metterei questo ru qua, il primo, al centro dell'occhio, questo video è pieno di interruzioni, ho finito di applicare il dorato col dito, e mi piace molto il risultato, spero che lo vedete anche voi, non lo so, adesso applico il mascara, questo è nuovo, è quello di essence, quello azzurro, ho comprato sia quello azzurro che quello verde, cambiano perché questo è water perfume, quello verde no, è quello verde notato a mia mamma, ovviamente essendo nuovo ha troppo prodotto, quindi sarà un po' più pesante il risultato, però andiamo oggi piano, vediamo se verrà decente, ok, ho preferito non applicare l'eyeliner, mi piaceva di più così, ok, il risultato dopo una passata in questo, non sono una grande fan dei mascara troppo pesanti, però credo che dopo un po' che si sarà asciugato il risultato migliorerà, adesso passiamo alle labbra, ho optato ovviamente per un rossetto rosso, questo è di NYX, è il numero 11, non so se ci sta bene con questo trucco, però penso di sì, decidete voi, vado ad applicare senza matita perché non ho una matita proprio di questo colore e non mi piace metterle più scure, il risultato è questo, fatemi sapere se vi piace, so che non è perfetto e probabilmente è molto semplice, però fatemi sapere nei commenti che ne pensate, ho i capelli super gompi perché li ho lavati poco fa, comunque metto gli occhiali e vi do la buonanotte, spero che quest'altro video di Natale vi sia piaciuto, fatemi sapere appunto cosa ne pensate, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, vi lascerò un mi piace se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo domani con un altro video di Natale ovviamente, buonanotte!